è arrivato il momento ritorniamo un attimo sui binari del calcio perché è arrivato il momento del gioco allora sto caricando sta cosa da un attimo in bagno perché da più di un'ora che devo andare che purtroppo vai in bagno corri ragazzi c'è questo gioco che io ho trovato su instagram dica la verità è un giochino che gira su instagram però l'ho riadattato l'ho fatto io con le mie manine l'ho riadattato per la tribuna al di là di parlare della serie a abbiamo parlato un po del pallone d'oro della serie a comunque big match c'è stato napoli lazio è stato annichiliente quindi non c'è niente di la classifica è quella sì il milan ha perso se vogliamo possiamo di quello però ci possiamo arrivare a parlarne senza fai blocchi tramite questo gioco ok allora ragazzi è stupidissimo hai solo cinque euro e devi scegliere tre attaccanti ovviamente non è importante che sia che ne so tre punte centrali piuttosto che una centrale due laterali anche perché li ho scelti in base al diciamo alla tier no quelli da tre euro sono diciamo i top attaccanti in questo momento delle delle top squadre due euro sono quei giocatori che comunque ci stanno no vedi un vlaovic un chiesa l'uno diciamo sui bomber di scorta però voi avete solamente cinque euro quindi che vuol dire ci sono diverse combinazioni sta a voi scegliere quale perché per esempio se scegliete uno da tre euro poi potete fare solamente due da un euro oppure ve ne prendete due da due euro e uno da un euro oppure che prendete è buono ci sono tante combinazioni due però no che si chiesa usi man non si può fare te ne devi prende tre ragazzi mi è morta la maestra scegli tre attaccanti il gioco è questo e se no mi prendo laudaro e immobile e vinco a fanta no non è così c'è cinque euro io farei iniziare brazzo crudo vedo bello carico allora io prenderei tipo due da due euro e uno da da un euro ok e chi prendi prenderei chiesa ah ah poi prendere chiesa è un bel prospetto giuapelo vai e te ne manca uno da due euro allora brazzo fa ne prendo uno da due euro uno da un euro e con gli restanti due euro va alla chioschetta sotto casa io sono indeciso tra abram e gioco quindi l'usato garantito io prenderei no io prenderei abram ok quindi abram chiesa e giuapelo bello solito bello solito dai ci sta vai fede tocca a te eh io sono in difficoltà perché brazzo mi ha rubato il trident quindi no è perché perché è quello più equilibrato no però no ma non è importante aspetta attenzione non è importante che siano eh laterali piuttosto che c'è come prezzo come gusto diciamo che siamo siamo lì però a questo punto anziché temi ci metto vlaovic quindi vlaovic chiesa gioco pedro forse ha preso ancora tre euro però vado a tre euro e tocca a te vai vai e non sarò neanche io alza purtroppo avrei preso di me però questa troppo anche perché lì sotto c'hai vlaovic io prendo vlaovic per forza poi sono innamorato purtroppo di leao anche se ieri vabbè è andata malino sta facendo comunque stra bene in questo momento e giovanni da un euro giovanni simeone effettivamente un bel attacchino se ci pensi vlaovic leao già se fosse nella realtà sarebbe un porca miseria un attacco bello da tenere in considerazione giocherigno vai allora beh io ovviamente sta tipo di prima insigne cioè io ho insigne ho il debole abraham e sono indeciso tra il gallo e qua ieri gallina tra la guaglia e il gallo insomma è indeciso esatto guarda no vado col gallo vabbè ci sta ci sta vai ragazzi ovviamente vado sul classico sta qui che faccio è osimen io pure avrei preso poi avevo pensato per simeone ancora tra noi neanche un respiro si sentiva Berardi dai Berardi ci sta ci sta ci sta K io con sincerità parlando ti dico nel momento in cui hai posto la domanda a brazo se lezione di suoi ho detto fortuna che almeno uno era diverso e poi ci ha pensato Marconi a raddrizzare il tiro perché ti avrei detto effettivamente chiesa l'avovice giopetro ora per non ripetere quella che era effettivamente era il mio mio tridente iniziale per dare qualche varietà te la metto su un altro impatto e ti dico Ibra giopetro e simeone che non è male ma aspetta allora prima di dirvi la mia vedi questo perché ognuno ha detto la sua e io quando ho costruito questa tier list no mi son messo lì a pensare che poteva essere livello 3 livello 2 soprattutto la maggior parte di voi è andato direttamente sul 2 2 1 ma adesso K ha fatto 3 quindi mi chiedo se non ho messo dei giocatori di livello 2 che però meritavano il livello 1 sì sì dicevo però rispetto a tutti gli altri secondo me l'hai fatto molto bene io avrei invertito Dybala e Chiesa io da non tifoso della Juve ma amante di Dybala ti dico che Dybala sta bene là perché è vero Chiesa attualmente è un po' più concreto un po' più continuo soprattutto dal punto di vista di infortuni però Dybala come valore assoluto è ancora su cioè piuttosto io avrei messo al piano di sopra Dzeko ah sì? sì però non so chi togliere cioè sempre come valore assoluto stesso ragionamento che ti faccio per Dybala Dzeko deve stare su però chi togli quindi era tosta diciamo che l'hai fatta bene così però ancora non ci ha dato i tuoi Mike vabbè io faccio un ragionamento pratico no a me fa ridere perché tu hai fatto la tabella quindi è scontato che tu abbia già i nomi però fai tutto questo preambolo no io invece io invece i nomi non ce l'ho io mi sono messo lì ho detto lì attaccanti Serie A e poi ho detto ah no questo va là questo va là allora a livello di gioco ed economia se devi prenderti i più forti è chiaro che fai 2-2-1 a meno che mi fai 2-1-1-1-1-1 però c'hai solo 3 vabbè però effettivamente potevi volendo eh sì sì oppure fai 2-1-1-1 cioè chi l'ha detto ah no scegli tre attaccanti che cazzo dico ma chi l'ha detto Mike l'ho fatto io la cosa peggiora era era che io non anduivo e me vede Spider no chi l'ha detto tutti zitti che non sanno la matematica quindi dicevo a livello di forza è normale che fai così io invece faccio un ragionamento un po' diverso allora mi vado a prendere uno da 3 euro e non perché sono della Lazio ma perché so quello che ti dà in campionato quindi se c'hai uno che te la butta dentro e te fa almeno 20 gol l'anno cioè tu c'hai già metà degli obiettivi portati a casa quindi Ciro per forza Ciro per forza poi Osimena te fa più gol Zapata è un animale però in una squadra secondo me immobile ci deve stare poi è chiaro che gli altri due li devo prendere da un euro e quindi che fai? è da un euro secondo me a livello di equilibrio dipende quello che vuoi fare però per esempio un Berardi se sta in forma perché no cioè Berardi nell'ultimo anno quanti gol ha fatto? 14? allora Berardi il signor Berardi solo nello scorso campionato ha segnato ben 17 gol in 30 partite e l'anno precedente ne ha fatti 14 quindi voglio dire immobile l'anno scorso ne ha fatti ben 20 ne ha fatti 20 precisi 20 lui 17 e sto già 37 gol e l'altro potrebbe essere o la scommessa o la certezza la scommessa che può essere che ne so un Simeone o un Gioao Pedro e la certezza è un Quagliarella Caisedo se lo metti all'ultimo vinci le partite exodia il proibito però per dirti quest'anno Berardi 17 gol in 12 partite non male Ciruzzo ce n'ha 10 quindi già solo quest'anno stavo a 17 gol no è giusto è giusto è giusto cioè anzi li hai motivati no il discorso è che sono degli attaccanti che funzionano nelle loro dimensioni no? K di Cileberardi funziona nel contesto in cui c'è? sì esattamente preciso così a differenza di cioè anche parlando di immobile secondo me è un campione è un campione punto nella Lazio ha trovato la sua dimensione migliore perché tu analizzi quello che ha fatto a Dortmund quello che ha fatto in altri contesti a Dortmund l'hanno classificato come il peggior acquisto della storia mi stai scadendo nel populismo? no non ti stai scadendo nel populismo ho trovato una dimensione e io parto dicendoti è un campione perché con me è un populismo no però mi dici quello che è la banalità che si dice Messi vinceva perché c'erano Iniesta e Xavi ma c'entra Iniesta? no ti dico è il luogo è il luogo comune che si associa a diversi calciatori no? mi sape Ballotelli con la testa di un altro era pallone d'oro eh ho capito ma quelli sono sì quelli sono un po' di questioni sono frasi fatte ma che c'entra? no un immobile che fallisce diciamo al Siviglia o al Dortmund in mezza stagione non lo puoi valutare e allora c'è Fernando Torres che cazzo ha fatto al Milan? niente ma che c'entra mi è arrivato a fare che era finito Fernando Torres quando è arrivato al Milan e al Chelsea? fete è diventato camper con Morata? no che discorso è? no fete tu non so se hai capito io però io non sono d'accordo io ho capito io ho capito entrambi solo che tu hai preso secondo me troppo sul personale quello che stava dicendo K che invece stava semplicemente analizzando il fatto che avesse fallito lo stava dicendo è scarso perché ha fallito anzi è partito dicendo guarda è un campione no lui ha detto lui ha detto lui ha detto che ci sono dei giocatori che funzionano nelle loro realtà io gli ho detto è un campione ci sono dei giocatori che performano in determinate dimensioni quello che mi ha detto di Xavi, Nesta e Messi non c'entra un cazzo perché il pensiero volare era dire Messi non fa mai bene senza Xavi, Nesta ma non lo puoi contestare perché non lo hai mai visto fino ad adesso e allora Totti? ok? infatti si può dire anche io per questo non sono d'accordo sul fattore Messi ha vinto solo a Barcellona no infatti non sono d'accordo perché però tu mi stai facendo dei parodi giovedì che non c'entra niente cioè Totti ha giocato solo nella Roma per cui non puoi dire appunto è un giocatore che ha fatto bene solo nella sua realtà perché se vai a vedere a livello di nazionale Totti ha vinto il mondiale non ha fatto niente e poi che cazzo stai a dire a livello nazionale cioè di nazionale al di là del rigore con l'Australia vai a vedere Totti che ha fatto ha fatto un europeo ma ha fatto un sacco di cose anche in nazionale ora magari la nazionale nel complesso ha girato meno perché tu devi pensare alla finale dell'europeo del 2000 e quell'europeo stesso al mondiale del 2002 insomma ci sono tante altre cose che ho fatto mondiale del 2002 decisivo nell'uscita perché è espulso e l'europeo precedente è espulso in poca a Paulsen successivo però comunque sia allora per sta cazzata allora diciamo che Zidane è una pippa perché ha una capocciata a cosa no perché Zidane 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 fa una doppietta in finale mondiale Francia-Brasile 98 quello che ti voglio dire è non puoi dire a un giocatore non farà bene in altri contesti se non c'è mai andato per cui non ti puoi dire Totti è scarso fuori da Roma perché non ha mai giocato fuori da Roma perché non lo hai visto invece altri giocatori che li hai visti hai un'idea differente vabbè io dico solo che secondo me ma perché c'è tutto questo discorso ti stavo semplicemente dicendo no ti dico non sono d'accordo perché se dici io volevo arrivare dicendo Berardi fuori la Sassuolo fa 17 gol ma allora la stessa cosa di Totti al Real Madrid non avrebbe fatto niente perché a nessuno lo sa è un turno all'otto guarda quanti giocatori ma pure Berardi fuori è un turno all'otto guarda Gabigol Gabigol è venuto all'Inter si è fatto un anno in panchina è tornato in Brasile è diventato il numero uno del Flamengo già dicevano che era forte prima che arrivassero il mio approccio è sempre quello di non stare a creare discussioni per cui è proprio questa no no giusto se si litiga è meglio per lo share e se si litiga se capisco perché dobbiamo litigare no è che io non sto d'accordo nel cioè questo discorso che tu hai fatto del contesto questo giocatore è forte solo in questo contesto non ho detto è forte solo in questo contesto e la realtà hai detto in questa realtà e quindi Berardi gioca meglio nel Sassuolo è meglio in questa realtà eh ma non lo puoi sapere cioè è la stessa cosa cioè è sbagliata secondo me è una dichiarazione K è una direzione sbagliata hai capito? no però in parte io sono d'accordo con K cioè prendiamo esempio Locatelli allora Locatelli nella Juve noi lo vogliamo veramente analizzare il 29 novembre dopo un inizio di stagione in cui la Juve non ha una squadra di calcio e soprattutto il 29 novembre lui è appena arrivato ma io voglio fare di fa io voglio fare di fa Lazio un paio di mesi ma Mike perché non hai messo Mertens? perché ha fatto troppi gol a Lazio perché costa 6 euro e tu ne sono più io lo amo Mertens lo dico sempre lo dico in ogni puntata perché è troppo forte non è possibile è possibilissimo no vabbè non ho messo Mertens perché secondo me come top striker c'è Ozyman come considerandolo un po' sotto perché non è quella punta che fa gol ci devo mettere forza in signe e Mertens non è un euro perché se no un euro prendevate tutti Mertens ovvio no ecco io non ho messo cazzarola ci dovevo mettere Simoncino Zazza porca trota per il meme per il meme no più che altro tra i 6 che hai inserito a un euro chi togli per far spazio a Zazza? ma Casedo tolgo dai comunque guarda 90 minuti Casedo non se li fa da 7 anni 7-8 anni Casedo che ha giocato nel Manchester City probabilmente non se lo ricorda neanche lui ma Casedo ha giocato nel Manchester City era il Manchester City quello con Rolando Bianchi sta gente così ma è già finito il gioco solo gli attaccanti c'erano ci voleva lavoro forza lavoro allora la prossima puntata facciamo i centrocampisti dai ciao a tutti i centrocampisti